Nome. Dagmaro Verbi. Soprannome. L'angelo della morte. Numero vittime. Nove accertate. Modus operendi. Strangolamento, affogamento, bruciava i bambini. Dagmar è nata il 23 aprile 1887 in Danimarca. Era una bambina decisamente poco tranquilla. All'età di soli 12 anni avvennero i primi crimini, come il furto. È stata così mandata in collegio per vedere se gli insegnanti riuscivano a rieducare quella ragazza ribelle ma ottennero scarsi risultati, quindi dopo tre anni fu rispedita dai suoi genitori. Iniziò a lavorare come impiegata ma fu presto licenziata per essere stata colta a rubare. È il 1909 quando venne arrestata per la prima volta. Uscì dal carcere dopo due anni e trovò impiego come cameriera. In quegli anni rimase incinta e diede alla luce il suo primo figlio, morto poco dopo in circostanze sospette. Due anni dopo la donna diede alla luce due bambini e sposò un uomo, un contadino, dal quale ebbe un altro figlio. Dopo la nascita dell'ultimo figlio, nel 1915, divorziò e si trasferì a Copenhagen, dove aprì un negozio di dolciumi. Li incontrò un vigile del fuoco ed iniziò una breve relazione. Mise al mondo un altro figlio che però morì in circostanze misteriose. Rimase sola con gli ultimi due figli. Gli unici sopravvissuti. Decise così di diventare una babysitter e di curare i bambini nati fuori dal matrimonio. Iniziò così una lunga catena di omicidi. Le madri affidavano i loro figli ad Agmar, dall'apparenza e dai modi di fare gentili, pensando potesse dargli educazione e protezione. Invece stavano affidando i loro figli ad un'assassina, ad una sadica. È il 1916. Una madre lasciò in custodia alla Dagmar il proprio figlio, pagandola 10 marchi. La donna aspettò che la madre si allontanasse e strangolò a morte il bambino, per poi gettarne il corpicino nel cimitero. Di solito gli ammazzava lo stesso giorno che le loro madri glieli portavano. I bimbi venivano strangolati o annegati. I corpi poi venivano poi bruciati nel cammino o seppelliti o nascosti in casa. L'attività criminale della donna fu scoperta nel 1920 dopo che una giovane madre che aveva portato suo figlio ad Agmar il giorno prima, cambiò idea e tornò dalla donna per riprenderselo. Ma l'assassina l'aveva già ucciso e inventò delle scuse sul momento, molto confuse e poco credibili. La madre, insospettita, chiamò la polizia che immediatamente si ricò sul posto. Il corpo del bambino fu trovato nel cammino della donna, carbonizzato. Scattò l'arresto. Durante il processo non mostrò mai pentimento. Risultò essere apatica, fredda, senza compassione. Non le piacevano i bambini e alla domanda sul perché avesse ucciso così tanti bambini, rispose che non lo sapeva nemmeno lei. La polizia, inoltre, aggiunse che era una bugiarda cronica, sadica ma non pazza, quindi processabile. Le cause probabilmente erano dovute ad una rabbia repressa di passati tradimenti che Dagmar subì. Ma la vera causa rimane ancora un mistero. È stata condannata al carcere a vita. È morta nel maggio 1929.